Abbiamo tenuto quest'oggi, una svolta epocale, sono felicissimo perché è stata una campagna elettorale dura e sofferta, ma nonostante tutto abbiamo raggiunto un risultato eccellente che ci porterà a lavorare con forza e con molto entusiasmo. Sono felice di essere il primo cittadino di questo splendido paese che io amo fortemente e soprattutto cercherò di essere il sindaco anche di quelli che non mi hanno votato, insomma che non hanno avuto fiducia in me. Ecco. Vuelvo a rifare. Vuelvo a rifare. Grazie. 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 Grazie.